In Serie D, pronto riscatto dell'Atletico BP dopo la sconfitta di Lucca, la squadra di Franzini ha ritrovato a concretezza andando a vincere 2-0 a Castenaso. Hanno deciso l'autoretta di Pinali e un gol di Bignotti. In classifica i Piacentini restano al comando più due sul tutto cuoio, bravo a violare di misura 3-2 il campo di Riccione. Giornata di recupero in eccellenza e dilagante successo della LUP a Piacenza, che a Ponte Nure di fronte al solito incontenibile Tifo ha travolto 6-0 i Monticelli Terme, doppiette di Pellacini, gol di Marazzo, Arena e Martinez e Minasola. A parità di partite disputate nei confronti degli immediati inseguitori, i Biancorossi hanno ora 4 punti di vantaggio sulla Correggese.